bella a tutti ragazzi ben ritornati dal vostro Joker siamo ritornati su un Open Impact di School of Joker questa volta è un Open Impact diverso da tutti gli altri siamo sempre con C589 però c'è sta anche lui pisellone Dexter ragazzi bra sexy Dexter allora regà in questo Open Impact come vedete abbe c'ho 600 mila che diciamo almeno c'è guarda che robetta regale un regalo per me c'è scritto qui guarda qua che roba gli argentoni guarda eccolo qua pacchetto mega il più grande pacchetto con trenta e questi sono quelli belli questi sono i picchetti più belli che ci vediamo allora ci apriamo cinque di quei che hai fatto ah niente senza andare da soli ci apriamo cinque di questi e poi vediamo cinque di quell'arte non so che conosciamo questi maio e stanno qua no fatta solo non so perché poi quando ne volete apri uno basta e modi idee lascio aprire anche a voi e cala toccato e calca se mi lasci qualcosa di buono si spara e vai ma ho aperto quello si è vero che ho aperto quell'arte ma ho aperto quell'arte e come ho fatto a te l'ha toccato Dexter regà il pad eh ma porca puttana Dexter ma non sono neanche rari mamma mia oh l'ha toccato l'ha toccato Dexter sto cazzo le pad bravo prima volta doveva fanno apposta mamma per me è che provato insieme mi trovavo mh ma è sì vai primo pacchetto col fiocco unirlo da morte e troviamo subito louieeees si è il pisellone boni pelè la leggenda e vai eh pelè la leggenda e guzza mamma mia che schifo chi è una giraffa porco due vai avrei ciccio i pacchetti della leggenda è qui argento una fatta ruta taratta guarda mister capelli sexy paletti ma che palle ma letta che bello sexy proprio che mamma dopo ciccio cinese hanno trovato burro con due da ma che cazzo e questi so boni questi so boni mai dexter abitua tocca 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 a be sempre la merda è merda per merda mamma mia casilla ancora è vivo questo zego poi è ma che schifo argentone come fa mamma mia ora viene si n'abbona chi ma schindro tra visce ma che cazzo che palle rega va avendo tutto avendo tutto lui aprite adesso poi vai 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 fammi trovare qualcosa adesso l'ultimo pacchetto rario salto e gira vai a un pacchetto buona di natale e auguri che bello auguri che bello sto cazzo e ma di per me l'esce sempre o cancuno rafan argentone argento argento adex e vaffanculo mamma mia garanzia costa più la divisa che tutto il resto e il pacchetto di i tre moschettieri o la potenza no e be scaramanzia il divino il divino jonathan amano comunque due persone che stanno scureggiando questi presenti ma che bello e talù questo 78 trovo ragazzo allora ulti del pacchetto e ne abbiamo uno per uno vai a prima io che porti sfiga ma io vai a destra vai mamma mia o no ho chiesto che ho trovato con e sole che palle o con e sanga a o mille crediti che sono rientrato ce l'ho per il pacchetto è tanto se baga e travi mamma mia però qualcuno sentiamo capisco che troviamo in cazzo da casa bello mio ma vaffanculo quando sa casa sua però se trova capito e suare se io l'ho di antunas simo che penso meno male che c'è c'è ragazzi grazie 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 bravo ciccio non mi sa concentravo ciccio paletta tracci che schifo perché sono concentrato sì per trovarlo ma è trovato un anno valetta ma non mi ha trovato baudi porco 2 un panettone nella ghella vabbè grazie rivedendo vabbè comunque vabbè via qua pure mentre saluto apri violetta e qui si ha aperto un po a caso no no ha aperto via ma ha fatto scherzo tranquilla allora ragazzi che dire l'appuntamento di oggi per finire qua ci hanno fatto un grande regalo gli esporti grande regalo un grande ragazzo ragazzo che dire dex porta una sfiga ci dice che violetta sta prende la forma della dex porta che è brava violetta brava violetta argentone raro argentone raro e mo soccorso non avete conto con 88 sto fascia da culo 1.400 muovendo subito e abbiamo a fine qua ovviamente vi invito a lasciare quanti like 10.000 15.000 30.000 100.000 like 60.000 ragazzi se volete la sfida contro me dexter e marco a me non mi ci mettono più per cosa ne faccio un culo marco se è squagliata cosa non è una cosa sia tutto e ma se tutte e due comunque 12.000 like per questo episodio ragazzi c'è una cosa potente molto giocare grazie ciccio grazie dex e grazie violetta baffanculo e merda ha fatto un cazzo io vi denuncio ciao ciao tra lo più buono tutto la sera e io trovo più buono che prima